Musica Questo è il secondo anno consecutivo che il parco commerciale Belvedere ha quest'albero bellissimo addobbato da cristalli svaroschi. E' una grande soddisfazione intanto perché in Italia ce ne sono solo tre, Milano, Roma, quindi da Roma in giù solo Melilli, grande soddisfazione. Oltre a questo è un albero che fa del bene perché in collaborazione con la Lilt, è un'iniziativa nazionale, ma noi parliamo soprattutto della Lilt di Siracusa, Il 10% di tutto ciò che verrà ricavato dalla vendita di oggetti appunto della svaroschi a tema natalizio verrà devoluto proprio per la Lilt. Facciamo anche un altro dettaglio, abbiamo una bellissima foto di quest'albero che è sulla pagina Facebook. Facebook Svaroschi Italia, quindi Svaroschi Italia ha preso l'iniziativa di inserire la foto di quest'albero direttamente sul sito di Facebook. Quindi come si diceva tanto tempo fa i consigli per l'acquisto e se quest'anno dobbiamo fare un regalo buono, un regalo fatto col cuore, pensiamo anche alla Lilt.